in questo bellissimo posto prossimamente in un video il mio primo bus del 2019 a Gerc vai 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 in storia cos'è perca boia che perca Siamo tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tra poco parto che vado a incontrare il mio amico andrò a fare una bellissima pescata in una cava abbandonata che mi ha detto che ci sono di tutto di più e quindi noi cercheremo di beccare tutti i predatori di quel lago ci sono luci, bus, perca e reali oltre a carpe, amur e cefali di grandi dimensioni quindi mi raccomando ragazzi per altri video del genere e sfide mi raccomando superiamo i 100 like in questo video quindi mi raccomando superiamo i 100 like in questo video lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ditemi il vostro qua sotto nei commenti e direi via con la sigla grazie a tutti uh che scudatona preso perchè tina ah no realino è un reale quello questo è un pesce veramente non me lo aspettavo pensavo fosse il fondo male vai 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 dal tercone si mi dicevi che erano grossi se vuoi ho sia la bilancia che il metro ok ne ho toccato uno si reali madonna ho avuto tipo 5 6 toccate però l'esca grande si ma ho 9 centimetri di esca comunque se lo prendi con la canna da 2 grammi tirano questi pesi questa senti la mangiata si è solida la punta io ho ferrato subito di fatti tu pensavi in fondo ma io ho sentito la mangiata si no perché ti ho visto l'ha impiantato ho detto vabbè è incagliato non era un reale subito ho capito che non era un reale infatti ho detto ho preso ha perso era grosso era luce no vabbè quei erano i boseghe ma no ma aveva qualcosa di grosso si no no era grosso si quello sicuro no 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 tagli era un coso un perché un perga io prendo il fondo al massimo no io mi sono incagliato due tre volte tipo questa sul fondo e basta hai perso l'esca no 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 solo incagliato nel senso si è bloccata l'esca dai un colpo e vieni su ma mangiatelo ma guarda io ero sul giallo fluo insieme al tuo verde fluo si va a finire strano ho avuto un attacco a crank tre quattro mangiate a gomma e basta sembra strano andiamo qua adesso andando via il sole questo diventa buono io volevo trovare anche di là davanti no perché si è incagliato è partito probabilmente c'è la tana e beh è reale questo è il 25 e beh è mecca attenzione ti ho detto io se ma guarda che ero qua ero incagliato e se vede che era là no c'è la tana è una tana qua sotto si vede ma chi va dentro l'imbellino non è bello io vado a mio amico non è andato però se ti siano dentro i siluri sono spariti non vedi che non ne becchi si pochi pochi si sono salvati quelli grossi quelli da 2 kg ma bisogna andarlo è la prima che mi muore tutti fondo preso 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 percone dove è la fotocamera no no è qua dal perca anche questo un po' più piccolino buttato giù giusto eccolo qua eccolo qua ora pinza o là sono stati anche i miei pesci ha mangiato cattivo questo però si si ho buttato giù giallo si fluo sarà un 60 vediamo un fintì si 60 giusti giusti 60 via partito perfetto grazie 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 I could show you how I could show you how the statue is gone This place is located for February February, when it all happens to be closed Oh 12 years old infatti stavo facendo di lato per non tirartelo addosso uh eccoli eccoli ah ma sono carpe si sono carpettine eh io la sono 5 o 6 cioè basse non possono essere o carpe cioè sono tonde questi sembrano pure basse sono scardole o cavedini infatti infatti non gli danno cioè ci passano a fianco quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, sono tutte le breme. Le ho dati là in mezzo, infatti. Sicuro che non si è nato? Sì, guardali, guardali. Che non gli danno, ti pare. Guarda, sono breme, si spostano. Però, hai visto? Bas. Che... Che non me la sentivo. Brema, brema, brema. Sì, te l'ho detto. Infatti, ha attaccato e infatti, what the fuck? Vabbè, non mi importa. Tanto... Non era grande. Sì, infatti. Però, sono contento di averlo fatto. Dai, almeno ho un pesce per il video. Ho un bus. Guarda che bremone. In questo bellissimo posto, prossimamente in un video, il mio primo bus del 2019, a Jack. Vai, 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 vai. In storia. Cos'è? Perca? Boia, che perca. No, Lucio, Lucio. Aspetta, 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 aspetta. Vengo... Riesci a farlo girare di là? Perché è bello. Eh, ho visto. Io qua non riesco a salparlo. Qua, devi andare giù. Spostati. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. C'è l'appoggio là. L'appoggio, tra virgolette. Aspetta, aspetta, che te lo stanco, che lo fai a coso. O perco, lo dici, eh? Non sono tanto allenato. Beh, per il filo ho un zero a coso, non so se lo vuoi. Eh, no. Non gli affari, però. Vuoi che te lo porti dove? Qua io sono appoggiato sulla rete. Eh, aspetta, che te lo stanco. Aspetta, aspetta. Ok. Ok. Bel lucciozzo. Vai, prendilo. Boom. Boom. Boom, baby. Solo da perca e da luci. Bene. E via. Bene, partito via tranquillissimo. Non è schizzato via, è impaurito e tutto. Era calmo. Non è schizzato via, è appoggiato 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 via, è appoggi